La Igor Volley Novara alza al cielo la Challenge Cup, strappando con rigore ed energia anche la seconda finale. L'andata in casa, mercoledì scorso, era finita 3-0. Nella partita di ritorno, la squadra di Lorenzo Bernardi chiude la pratica sul suolo francese con un 3-1 che non lascia dubbi, concedendo un solo set, il primo, al Neptune Nantes. La squadra, allenata da Cesare Hernández González, riesce a strampare il primo set 23-25. Poi le novarese si riprendono dopo il 4-1 iniziale nel secondo set e non mollano più, prendendo il largo con il risultato finale di 16-25. Si assicurano la Coppa, bastava infatti la vittoria in 2-7 in tutta la partita, con il terzo sigillato 25-20. Infine si portano a casa anche tutta la partita, finita 3-1 dopo il quarto set chiuso 25-19. Ottima la prestazione di gruppo, in evidenza vita a Chimova con 25 punti personali, premiate anche come migliore giocatrice della Challenge Cup 2024.